Posteggi nell'area ticosa di Como non prima del 2021. A chiedere che posti auto siano realizzati nel più breve tempo possibile è il vice sindaco e assessore del comune di Como, Alessandra Locatelli. Subito il parcheggio, dobbiamo mantenere fede alle promesse fatte ai cittadini. Il vice sindaco, non commentando negativamente l'idea di spostare gli uffici di Palazzo Cernezzi nell'area dell'ex Tinto Stamperia, ribadisce comunque l'intenzione della Lega realizzare nel più breve tempo possibile un parcheggio. Richiesta che i cittadini comaschi da tempo rivolgono all'amministrazione. Peccato che i tempi per la realizzazione dei posteggi siano lunghi e molto. Innanzitutto occorre terminare l'intervento di bonifica dell'area. Un capitolo, come molti altri della città, aperto da lunga data e che potrebbe finalmente chiudersi nel mese di ottobre del prossimo anno. Questo almeno secondo le intenzioni dell'amministrazione. Il progetto per la bonifica della cella 3, l'area di circa 4.800 metri quadrati dietro la Santarella che dovrebbe essere finalmente ripurita dagli inquinanti, doveva essere presentato in giunta nel mese di marzo. La data è saltata e ora salvo nuovi imprevisti sarà discusso entro i prossimi 15 giorni. Il cronoprogramma presentato a febbraio ha dunque già subito modifica a causa dei ritardi e slittamenti. Se invece tutto dovesse procedere secondo i piani stabiliti dall'amministrazione e la chiusura del cantiere per la bonifica, avverrebbe il condizionale resta d'obbligo nel mese di ottobre del 2020 e occorrerà almeno un altro anno per vedere realizzato il tanto atteso parcheggio. Infatti la definitiva pulizia di ciò che c'è sotto, l'ex tinto stamperia, resta uno snodo cruciale per ridisegnare il futuro dell'area e anche solo per poter immaginare la realizzazione di un posteggio provvisorio. Nei giorni scorsi, commentando l'ipotesi di trasferire gli uffici comunali in Ticosa, il sindaco di Como, Mario Landrescina, aveva spiegato Ne stiamo discutendo e condivideremo l'idea con la città. Certo è che questa ipotesi non sacrificherebbe posteggi, anzi ogni ufficio pubblico deve essere dotato di posteggi e collegamenti con il trasporto pubblico. La speranza è che i tempi per la realizzazione di un parcheggio ed eventualmente del nuovo municipio non diventino biblici.